La massima attenzione va data a quanti non sono raggiunti da risposte al loro disagio. Categorie, gruppi, persone che possono farsi coinvolgere in proteste indiscriminate e finanche violente, in un estremo e sterile moto di contrapposizione totale alla politica e alle istituzioni. Occorre perciò accompagnare il più severo richiamo al rispetto della legge con la massima attenzione a tutte le cause e i casi di più acuto malessere sociale. La crisi globale che si trascina dal 2008 e quella che ha poi più direttamente investito l'Eurozona hanno messo a dura prova la coesione sociale nel nostro come in altri Paesi.